Un'altra settimana di passione, dopo l'audizione fiume del PM Antonino Anastasi, riprende il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso David Rossi. Mercoledì sarà il turno di Giuseppe Mussari, già presidente della Fondazione di Banca Monte dei Paschi, nonché la persona più legata a David Rossi al vertice dei palazzi del Potere di Siena, visto che per dieci anni si è avvalso della competenza e della professionalità del manager, non dovrebbe mandare nessun certificato medico. Sarà presente davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta e dovrebbe anche scegliere la forma dell'audizione pubblica senza parti secretate, intanto su un binario parallelo. Anche i magistrati del Tribunale di Genova hanno convocato Anastasi. Dal resoconto per i commissari sarebbe emerso un grave inquinamento probatorio. Anastasi, in Commissione parlamentare, ha smentito di aver risposto al telefono e di aver avuto la volontà di insabbiare le indagini. I magistrati genovesi hanno precisato che si tratta di un passaggio dovuto, visto che il pubblico ministero è stato sentito in Commissione parlamentare d'inchiesta.